Sono 1074 gli anziani seguiti dai servizi sociali di Padova, un vero e proprio esercito che con il passare degli anni deve fare i conti con esigenze crescenti e difficilmente programmabili. Spesso le difficoltà non sono solo legate all'avanzare degli anni ma anche ai nuclei monofamiliari. A crescere infatti non è solo il numero degli anziani ma anche quello degli anziani che vivono soli, condizioni nelle quali agli acciacchi fisici è possibile si aggiungono anche apatia e noia. La solitudine è spesso un problema, una realtà che va ad amplificare anche situazioni di disagio dovute all'anzianità e che si trasformano a volte anche in depressione, quindi in vera e propria malattia. Temi dei quali anche le politiche locali devono sempre più spesso tenere conto per limitare i rischi connessi alle patologie ma anche per far quadrare i bilanci pubblici e proprio sul fronte economico a venire in soccorso sono gli stessi anziani che entrano nelle reti del volontariato. Anche Padova ha una realtà importante del volontariato anche della terza età attiva cioè anziani autosufficienti capaci di mettersi a disposizione dei bisogni delle persone più anziani di loro e con maggior capacità che insieme in collaborazione con i servizi sociali vanno a supportare appunto la rete dei servizi degli anziani nelle città, nei quartieri. Insomma per tenersi giovani e aiutare la comunità l'unica via è quella di rimboccarsi le maniche e di darsi da fare. Le statistiche lo dicono chiaramente, l'aumento degli anziani soli nei prossimi anni è destinato ad aumentare.